Grazie a tutti e grazie soprattutto per l'invito. Io sono un tipo piuttosto pragmatico e cerco di spiegare per quale motivo il Ministro della Salute ha puntato su gara. La ricerca biometrica, quella ricerca che fa il Ministro della Salute, che investe circa 300 milioni di euro annui di risorse, non è una ricerca così definita di base, è una ricerca di datura traslazionale. Allora, dagli anni 30, anzi dagli anni 20, in Italia è nata un modo di concepire la medicina che era un pochettino diverso, poi vedremo adesso che è addirittura rivoluzionato, quello cioè di osservare la persona per avere delle nuove idee, per poter sperimentare in laboratorio qualche cosa e per poi riportare le stesse novità direttamente poi di nuovo alla persona. È un'idea grandiosa italiana perché è nata negli anni 20 e il primo istituto che è stato creato è stato l'Istituto Tumori di Milano, poi anche qui a Roma Reginellene e poi sono seguiti una serie di altri istituti. I nodi di questa rete che la gara sta legando sono gli istituti di copertura a carattere scientifico, cioè quegli istituti che cercano di coniugare quello che è l'attività di ricerca di base all'attività di ricerca clinica. In realtà come definizione si parla di ricerca traslazionale o di medicina traslazionale, proprio per collegare, è un fatto diciamo piuttosto filosofico perché capire quando si arriva alla ricerca di base, quando ci si trova la ricerca di base e quando si arriva alla ricerca clinica è un elemento piuttosto difficile. Che cosa è cambiato nel tempo? Ovviamente molte cose. La prima cosa fondamentale è che è stato cambiato il modo di approcciare la persona. Fino a 15 anni fa noi non conoscevamo il nostro patrimonio genetico, anzi quando abbiamo scoperto il nostro patrimonio genetico e l'abbiamo del tutto sequenziato, pensavamo che aveva scoperto tutto, invece erano scorti che l'ipigenomica ci aveva detto che c'era qualcosa di più. Poi qualcosa abbiamo scoperto ancora in più perché c'era il microRNA e tutti i sistemi di comunicazione interno della cellula. In sostanza abbiamo capito che come diceva Vittorio Ugo, i medici sono delle persone che usano farmaci che non conoscono, e in organismo che conoscono ancora meno. Però che cosa è nato? È nata la necessità di avere grandi banche dati di conoscenza. Cioè fare l'analisi genomica, soprattutto vedere quali sono le mutazioni per alcuni tipi di tumore, o per alcuni tipi di patologia, o per capire se c'è una componenza genomica per la sfusione di certe malattie, o per capire quali sono i mediatori che sono quelli che legano l'espressione di certi geni che normalmente sono presenti, occorrono grandi banche dati, grandi serbatoi di conoscenza. Ma non solo questo, ma immaginate a tutti quelli che sono legati all'imaging, cioè alla risonanza magnetica. Tutti quelli che hanno una malattia rara, immagini di questa malattia non ce ne sono. Quindi se la malattia è rara, possono essere più soggetti che hanno fatto questo tipo di attività e possono mettere in comune questo tipo di informazione. E avere anche una sorta di immagini che è l'evoluzione di questo tipo di malattia dal momento che inizia ed è asintomatica fino al momento in cui arriva e diventa di tipo patologico. Quindi è necessario, avendo diversi serbatoi, che però sono dispersi sul territorio nazionale e internazionale, anche a livello estero, poter collegare questi serbatoi e quindi creare quelle che sono le infrastrutture. Le infrastrutture sono necessariamente legate... Ho letto una cosa su Bill Gates che diceva che le infrastrutture... Una volta si immaginavano le case come Black Runner, quegli edifici monolitici in cui tutti quanti venivano agglomerati. In realtà poi la Microsoft ha creato il suo sede di sviluppo disperdendosi in campagna ed essendo collegate esclusivamente attraverso reti ad alta velocità. Perché in realtà la rete ti dà la possibilità che quel serbatoio, quel serbatoio di comunicazione e di informazioni, è praticamente vicino. Per questo noi abbiamo iniziato prima in maniera timida e poi in maniera ormai strutturata una collaborazione con Gara. E questa collaborazione ha già dato dei frutti. Ci sono diverse infrastrutture che cercheremo di mettere sopra di interesse nostro sia dal punto di vista di ricerca ma soprattutto anche dal punto di vista di una ricerca traslazionale, cioè una ricerca di tipo clinico. Una prima che abbiamo sperimentato era quella della telepatologia, cioè la possibilità di trasferire a distanza campioni fisici, ma immagini di materiale biologico. È stata sperimentata e ci sono un collegamento ormai, soprattutto per la rete dei tumori rari, un elemento che funziona ormai normalmente. È stato da poco assegnato un finanziamento, che svilupperemo anche per alcune malattie rare di natura neurologica, un finanziamento apposito per creare delle infrastrutture. Considerando che gli IRCS sono quei pochi centri che hanno la risonanza magnetica a 3 Tesla, cerchiamo di raccogliere immagini sia a 3 Tesla che di un 1,5 e per avere banche dati di immagini per malattie neurologiche rare. Un altro elemento che abbiamo già realizzato è quello sulla sperimentazione farmacologica. Però diciamo che tutti questi elementi sono gli elementi che sono aggiunti alla rete e noi vogliamo aggiungere di più. Abbiamo adesso iniziato una collaborazione provata dal Ministro Fazio con il CNR, perché ha diversi strumenti da parte di biochimica, di medicina, e vogliamo cercare di prendere tutte queste altre infrastrutture e cercare di metterle in rete. Con queste parole ho cercato di spiegare per quale motivo la rete gare per noi è fondamentale, anche se abbiamo leggermente discusso su alcuni aspetti, infatti mi sono ritrovato nell'atteggiamento con il Dottor Valente, sia non dico della ridicata, ma della discussione. Però credo che sia un elemento fondamentale per il Ministero, non so per la ricerca, ma sicuramente per la ricerca del Ministero, avere questi elementi, questi serbatoi di conoscenza collegati da di uno. Grazie.